Donne, diritti e ripresa per una piena inclusione sociale. Sono questi i temi della mostra itinerante Libere di Vivere, un progetto socioculturale di Global Thinking Foundation ospitata da Città Metropolitana di Torino nei locali del Cesedi, il centro servizi didattici. Sono stati centinaia in questi giorni gli studenti e le studentesse del territorio che l'hanno visitata. Anche le amministratrici di Città Metropolitana e Comune di Torino hanno voluto incontrare la presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre, per approfondire con lei i temi della mostra. La vice-sindaca di Torino, Michela Favaro, e la consigliera delegata alla parità di Città Metropolitana, Valentina Cera, si sono soffermate sull'eroina in mostra, da Mafalda a Eva Kant a Wonder Woman, con i loro messaggi delle graphic novel sui temi dei diritti della donna e il contrasto alla violenza economica. Questa mostra parla di violenza finanziaria, una violenza che è più silente, è meno visibile rispetto a quella fisica o a quella sessuale, ma è una violenza assolutamente discriminante per le donne, quindi è importante conoscerla e provare a mettere in campo tutte quelle azioni culturali per prevenirla. Un percorso di didattica ibrida sull'educazione civica e finanziaria dedicato alle scuole.